Le precauzioni che i genitori devono adottare durante l'accudimento del loro figlio sono anche in questo momento le stesse che vanno adottate nel tipico periodo influenzale, quindi norme igieniche di buon senso, la prima è evitare che il neonato sia in mezzo a folle di parenti e amici, quindi evitare i contatti, preservarlo quindi in questo senso e poi tutte le norme igieniche personali, il corretto lavaggio delle mani del papà e della mamma ed evitare il contatto diretto se si ha il raffreddore e quindi utilizzare dei presidi come le mascherine per evitare di trasmettere le infezioni. Per quanto riguarda l'uso delle mascherine bisogna ricordarsi che le mascherine, quelle chirurgiche, quindi quelle che si comprano facilmente in farmacia, sono monouso, quindi non è che devono essere utilizzate utilizzate per giorni e devono essere proprio utilizzate come barriera per evitare di trasmettere ad altri un'infezione che può essere anche semplicemente una banale influenza, quindi vanno indossate quando si hanno i sintomi, se una mamma ha la tosse e il raffreddore deve i sintomi prodonomici, cioè all'inizio mettere subito la mascherina quando ha contatto col bambino, ricordandosi che le goccioline che vengono dette in termine tecnico, goccioline di plug che sono quelle che emettiamo quando parliamo, quando parliamo normalmente arrivano a circa un metro, se tossiamo molto di più e quindi il motivo per il quale viene consigliato, ma è una regola di igiene che vale sempre di mettere un fazzoletto davanti al naso alla bocca quando si sternutisce ed è il motivo per il quale bisogna tenere il neonato a distanza di almeno due metri quando appunto si è in una condizione di rischio di trasmettere qualcosa di respiratorio. Una mamma che al momento del parto è conosciuta essere positiva per il virus, il coronavirus, può allattare al seno con delle precauzioni che sono rafforzate. Dobbiamo distinguere due situazioni, una situazione in cui la mamma è positiva ma è poco sintomatica o è nella fase di guarigione o comunque è una mamma che sta bene, quindi che non ha tosse, che non ha raffreddore, che non ha febbre. In questo caso le evidenze che ci sono peraltro non molto forti, perché questa è comunque una malattia nuova, ci indicano che può allattare al seno non essendoci il rischio della trasmissione con il latte materno analogamente a quanto avviene per la banale influenza in cui non c'è controindicazione all'allattamento al seno. Il virus non sembra passato attraverso il latte materno. È evidente però che c'è un rischio di trasmissione con le vie respiratorie e quindi vanno rafforzate tutte le misure di igiene, lavaggio delle mani, uso della mascherina chirurgica quando si tiene il neonato vicino durante la fase dell'allattamento e quando non si indossa la mascherina tenere il neonato ad almeno due metri di distanza e i CDC consigliano addirittura anche di mettere una sorta di paravento tra la mamma e il neonato quando dormono per evitare il rischio della trasmissione respiratoria che non riguarda solo i primi giorni di vita ma riguarda poi anche le settimane successive finché la mamma è positiva. Il latte donato è un latte sicuro? La risposta è semplice, anche facile, è un latte molto sicuro perché viene sottoposto a tutta una serie di esami, prima addirittura, quindi le mamme che donano vengono sottoposte a tutta una serie di accertamenti e poi il latte viene opportunamente trattato con un processo di pastorizzazione che distrugge con assoluta sicurezza virus e batteri, peraltro i pool di latte donato vengono successivamente alla pastorizzazione tutti controllati e quindi è un latte sicuro al 100%.